Framina di Bazzano, ancora nessuna certezza. Nonostante l'azienda abbia messo sul piatto dei soldi, da parte del curatore fallimentare ancora non arrivano delle risposte. I sindacati non ne sanno nulla e due giorni fa i lavoratori si sono ritrovati ancora una volta dinanzi al Tribunale dell'Aquila con un presidio. Il curatore in sostanza resterebbe fermo nella sua posizione e la risposta che sarebbe dovuta arrivare ancora non c'è. L'azienda che ha rilevato la ex-Otefal di Bazzano ha ridato lavoro a circa 62 persone. Nonostante abbia messo altri fondi sul piatto per coprire le ultime sei mensilità, evidentemente il curatore ritiene siano insufficienti perché ci sarebbero altre cose da pagare. Probabilmente il curatore ha dei dubbi sull'effettiva tenuta dell'azienda. In questo limbo sono preoccupatissimi ovviamente i sindacati e i lavoratori perché potrebbe aprirsi un altro scenario inquietante in una città dove il lavoro già manca e dove le vertenze aziendali sono già numerosissime. C'è molta preoccupazione, i dipendenti chiamano in continuazione perché chiaramente sta in ballo il loro posto di lavoro e noi come sindacato continuiamo a dire che noi non entriamo nel merito di questa situazione. Noi sappiamo solo una cosa, non possiamo permetterci di perdere 62 posti di lavoro, quindi il tavolo della Prefettura è sempre aperto. Quindi se oggi o nel prossimo ore verrà fuori che non c'è stato un accordo, noi vorremmo sapere il perché non c'è stato un accordo. Qual è il problema? Perché per noi non può essere che non ci sia un accordo tra un'azienda che ha dichiarato che è pronta a pagare e anzi è stato detto che hanno depositato un assegno, i famosi ultimi sei mesi che devono pagare. È una curatella che chiaramente ha interesse a far lavorare perché qualcuno però ci dice se non si trova un accordo. Io mi auguro, perché sono positiva, che nelle prossime ore qualcuno ci dice che è stato trovato un accordo.